Una lettera pastorale carica di significato, quella inviata dal Vescovo di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, ai fedeli della Diocesi, in occasione dell'inaugrazione dell'Anno della Famiglia, a Moris Letizia, a partire dal 19 marzo 2021. Ringraziando il Santo Padre per il dono dell'esortazione pubblicata cinque anni fa, il Vescovo sottolinea come sin dall'inizio del suo Ministero Petrino, il Santo Padre ha manifestato un'attenzione particolare alla famiglia, dedicandole numerosissimi interventi e ben due sinodi dei Vescovi, che hanno accolto i contributi di tante comunità del mondo. Frutto di questa intensa preparazione è proprio il documento a Moris Letizia, pubblicata il 19 marzo 2016 in occasione della Sonennità di San Giuseppe. L'invito conclusivo dell'esortazione apostolica è camminiamo famiglie, continuiamo a camminare. Il Papa ci educa quindi a stare accanto alla famiglia, ci educa a quella compassione che è fatta di misericordia e di vicinanza. Più volte intende spronare la famiglia a porre al centro il Vangelo dell'amore. Come evidenzia ancora Monsignor Miniero, la cui azione pastorale è sempre stata particolarmente attenta alla dimensione familiare, il forzato isolamento causato dal diffondersi della pandemia con le sue conseguenze sull'espressione degli affetti e sull'economia, ha fatto emergere le criticità e le difficoltà della famiglia nel nostro tempo e nel contempo ne ha evidenziato le risorse. Tra queste va annoverata con gratitudine la consapevolezza che tra le mura domestiche c'è una presenza bella che scaturisce dalla mutua relazione degli sposi. È la presenza di Gesù. Ritrovare la preghiera nella famiglia è la via che permetterà poi di tornare nelle chiese per una celebrazione più viva e sentita, perché più consapevoli e forti della presenza di Gesù nelle nostre vite quotidiane. Se Dio è al centro allora è possibile proseguire il cammino familiare nonostante le difficoltà. In questi anni l'ufficio di pastorale familiare si è adoperato nel promuovere una pastorale che accompagni la famiglia nel suo cammino a partire dall'ascolto, rispetto al quale il Vescovo invita i fedeli ad ascoltare e non giudicare, ad annunciare e non condannare, a testimoniare la speranza e non la rassegnazione. C'è poi l'esigenza del discernimento per riportare la parola di Dio nel cuore della famiglia. L'accompagnamento, uscendo, ribadisce Monsignor Miniero, dal tunnel del giudizio, dalla tendenza di criticare sempre e ad ogni costo. Come Chiesa siamo chiamati a stare accanto, senza cercare ostinatamente le colpe. Infine l'uscita, ed è qui che il Vescovo conclude con un augurio rivolto a tutte le famiglie, ai sacerdoti e agli operatori pastorali. Dall'accompagnamento dobbiamo prendere per mano le famiglie e porle in uscita, affinché possano testimoniare quel Vangelo che si incarna all'interno di esse e diventare un punto di riferimento per l'intera comunità.